Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è il più grande successo d'animazione della storia aggiunge un capitolo tutto da ridere alla sua saga con il nuovo film Illumination Minions 2. Come Gru diventa cattivissimo me. Il film sarà disponibile su Sky prima fila a partire da giovedì 3 novembre. Molto prima di diventare il maestro del male, Gru era solo un ragazzino di 12 anni che viveva nei soborghi della città nel cuore degli anni 70, tramando di conquistare il mondo dal suo seminterrato. Quando il famigerato gruppo di supercriminali, i Malefici 6, spodesta il loro leader, Gru tenta di unirsi a loro, ma si ritrova ben presto ad essere il nemico mortale all'apice del male. Con Gru in fuga. I Minions cercano di apprendere le arti marziali per salvarlo. E Gru scopre che anche i criminali hanno bisogno di aiuto dai loro amici. Con l'umorismo irriverente che contraddistingue la saga. Minions 2. Come Gru diventa cattivissimo ti darà più avventura e azione di ogni altro film di, cattivissimo me. Il film è scritto e diretto da Kyle Balda, Minion. Cattivissimo me 3. Lorax co diretto da Breda Bleon, Minion Holiday Special, e Jonathan Del Val Pets 2. Vita da Animali co scritto da Matthew Fogel, The Lego Movie 2. Una Nuova avventura, e Brian Lynch, Minion. Pets Vita da Animali con Steve Carell, Pierre Coffin, Taraji P. Hanson, Lucy Loles, Dolph Landgren, Danny Trejo, Jean-Claude Van Damme, Julie Andrews, e Alan Arkin. Le musiche originali sono di Eitor Pereira. Questo è tutto per le notizie di oggi. Assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.